Il concetto di hacker non è soltanto quello che i film ci hanno insegnato, sono questi personaggi che si mettono lì con internet e rubano le carte di credito delle persone, in realtà il concetto di hacker è legato a un concetto di chi vive con passione, degli aspetti di ricerca e crede che la condivisione di queste conoscenze sia il modo migliore per accelerare l'evoluzione della società e quindi possiamo dire che in ogni ambiente possiamo avere degli hacker, quindi degli appassionati che si occupano di divulgare questi approcci, abbiamo visto che si parla tanto di social innovation in Italia e dovendo vedere chi fossero realmente questi innovatori sociali che riuscissero allo stesso tempo a contemplare un'esigenza di business e quindi una sostenibilità economica con una sostenibilità ambientale e sociale abbiamo visto che in Italia diversamente la Silicon Valley erano soprattutto questi neorurali, questi neoricoltori che approcciavano in questa maniera la loro vita e quindi per questo abbiamo messo su questo progetto di ricerca Rural Hub che è un progetto che secondo l'approccio del suo siting non vuole fare ricerca su questi agricoltori ma con loro e quindi abbiamo creato questo open space, questo acre space dedicato alla social innovation e all'agricoltura col quale abbiamo organizzato queste giornate e vedremo questa ricerca dove ci porterà.